Se te da storico domani dovresti dire, fra dieci anni dovresti scrivere, 2022, cosa è successo in, insomma, un discorso di tempo ragionevole, non un romanzo, cosa diresti? Cioè, quali sono le robe che rimarranno nella storia di questi nove mesi di conflitto oggi che si chiude, il 2022 per otto anni? Ah, in primo luogo rimarrà il conflitto, ovviamente, e rimarrà il conflitto che non è chiuso, naturalmente. Innanzitutto ti devo far notare che se vuoi un parere da storico deve prima finire tutto, e poi ragioniamo, perché quello che mi chiedi è un parere più da giornalista o da analista che da storico, naturalmente. Del resto io sto fornendo anche pareri da analista e non da storico, perché la guerra non è finita. Però voglio dire, adesso io posso dire, io e chiunque stia seguendo questo conflitto, possiamo dire quello che sta succedendo finora, naturalmente. Questo non è necessariamente garanzia di sapere quello che succederà dopo, del resto non me lo hai chiesto. Innanzitutto c'è il conflitto, ovviamente. Innanzitutto c'è un conflitto che chiaramente, al di là della dimensione territoriale, per territoriale intendo il territorio dove si sta combattendo questo conflitto, che è ovviamente l'Ucraina, è un conflitto che sta avendo invece una serie di ramificazioni mondiali, naturalmente. Innanzitutto perché noi, noi Nato, noi Unione Europea, eccetera, eccetera, siamo comunque implicati in questo conflitto, non direttamente, va bene. Però siamo implicati e da un certo punto di vista ne paghiamo anche delle conseguenze, naturalmente. Ne stiamo pagando delle conseguenze economiche, pratiche, da molti punti di vista. Ed è il, diciamo, si tende a vedere questo conflitto, io ho notato che di solito si tende a vedere questo conflitto come un inizio di qualcosa che prima non c'era. Cioè, abbiamo questa ossessione delle date, in cui a un certo punto succede qualcosa, nell'anno X è successo questo. Sì, però in linea di principio gli eventi storici, e questo è un evento storico, naturalmente, ripeto, non tanto per la dimensione territoriale e militare, ma per tutto quello che si porta dietro, è un evento storico che è cominciato da un pezzo. È un evento storico che, al di là della solita storia, è cominciato nel 2014, ma è cominciato ancora prima. Cioè, questo è una fase ulteriore di una serie di scontri, di sospetti, dispetti reciproci e di mancanza totale di fiducia tra blocco occidentale e Russia, che almeno è in piedi dal 1999, o se vogliamo in piedi dal 17, e tra l'89 e il 99 c'è stato un decennio di… però là, insomma, andiamo veramente un po' troppo oltre. Diciamo che quantomeno è cominciato nel 99, che non a caso è l'anno in cui è salito al potere Putin, e poi c'è rimasto e se n'è andato più, e non pare abbia progetto di andarsene, ma soprattutto è l'anno nel quale la Russia ha cominciato strategicamente a tirare un paio di somme. Cioè, ha capito, per via dell'attacco NATO alla Jugoslavia, alla Serbia, ha capito che tutte quelle storie di architettura di difesa comune, di integrazione della Russia nello spazio euroatlantico, eccetera, 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 terminavano immediatamente nel momento in cui la volontà degli Stati Uniti era, e della NATO, perché poi la questione del 99 non sono stati solo gli Stati Uniti, è stata anche la Germania, insomma, tutta una serie di situazioni, terminava nel momento in cui la NATO decideva che bisognava fare qualche altra cosa. In quel momento il parere della Russia, che quando le cose andavano bene, non c'era nessun problema, era almeno formalmente ascoltato, non veniva ascoltato più. Ora, su queste basi un'alleanza non è proprio la migliore delle basi. Putin è stato messo lì dove è stato messo per gestire questa situazione, la Russia ha dovuto ingoiare un altro po' di bocconi l'ingresso di vari Stati nella NATO, anche post-sovietici, chiaramente non solo fatto di Varsavia, finché a un certo punto si è trovata nella possibilità, poi vedremo se questa cosa è reale o è stato un difetto di sopravvalutazione, di imporre, di provare a imporre, la sua volontà strategica nei confronti di quello che è stato percepito dalla Russia come un tentativo di violare appunto la sicurezza strategica della Russia in una maniera che mai era stata fatta prima. Perché una cosa è l'Estonia, ovviamente, e la cosa è l'Ucraina. Altrettanto, ovviamente, un'Ucraina nella NATO non significa che tu poi necessariamente il giorno dopo ci metti i missili nucleari, chiaramente, è ovvio, però un'Ucraina nella NATO significa che i missili nucleari in NATO arrivano a Mosca in sei minuti e questa cosa nega qualsiasi tipo di risposta strategica da parte della Russia. Cioè, questa è una cosa che non poteva essere accettata, punto. Non era possibile accettarla e di fatti non è stata accettata. Poi, ripeto, vedremo più avanti se questo non accettare si concluderà con una vittoria della Russia dove, ripeto, l'idea vittoria russia non è il prendersi zaporose, prendersi poltava, come delirano i nazionalisti russi che vorrebbero fare l'impero di Pietro il Grande o di Caterina. Vittoria russa è, ok, l'Ucraina nella NATO non c'entra, oppure la riduciamo a un rottamaio talmente tanto irrecuperabile che, anche se decidesse di entrare nella NATO, non ci sarebbe assolutamente nessuna minaccia che potrebbe esserci portata. Dal punto di vista pratico militare, ne abbiamo parlato a Iosa, passato, diciamo, i primi giorni nei quali si sperava un cambio di regime o qualcosa del genere, non c'è stato, naturalmente, e la Russia si è messa a combattere la guerra come la combatte lei, cioè col materiale. L'Ucraina ci ha provato a resistere, materiale su materiale, ovviamente ne ha molto di meno, anche materiale umano, naturalmente. Grazie all'aiuto della NATO sta reggendo, non voglio dire più di quanto si pensasse, ma sicuramente sta reggendo bene, però i nodi al momento stanno venendo al pettine, nonostante le avanzate di quest'estate, eccetera, eccetera, abbiamo detto, qual problema non è occupare il territorio, ma distruggere l'esercito nemico. Giusto oggi c'è stata un'intervista a un generale ucraino, di cui non ricordo purtroppo il nome, magari la scrivo dopo in chat, lo recupero, che ha detto che sì, l'avanzata di Kherson, su Kherson, scusatemi, è stata un successo, ma è stato un successo al 50%, perché? Perché non abbiamo distrutto le forze armate russe, quindi abbiamo occupato del territorio, ma i soldati che stavano là sono rimasti sostanzialmente intatti e faranno altro da qualche altra parte. Sia l'esercito ucraino che l'esercito russo stanno cambiando moltissimo dal punto di vista pratico, la Russia si è accorta di aver fatto una serie di sottovalutazioni, errori, non tanto nei confronti dell'Ucraina, ma nei confronti di come conduceva una guerra moderna, e infatti adesso si sono buttati sui droni, stanno eliminando progressivamente il gruppo tattico di battaglione che era l'unità base dell'esercito russo, che prevede poca fanteria e molti veicoli blindati, molta artiglieria, molti carri armati che vanno benissimo per sfondare, ma non vanno benissimo per niente per tenere il terreno, ovviamente, e quindi stanno modificando in profondo questa cosa. L'esercito ucraino sta facendo lo stesso, perché oltre a essere un esercito di difesa, chiaramente, cioè un esercito che è pronto, che è addestrato per combattere in difesa, e lo vediamo chiaramente nel Donbass, ha creato anche tutta una serie di gruppi bellici, di gruppi militari, per fare attacchi in profondità nel terreno, per saggiare le linee nemiche, eccetera, eccetera, e abbiamo visto come effettivamente, soprattutto nell'area di Kharkiv, questa nuova dottrina abbia avuto un successo notevole. La situazione logistica resta quella che è, cioè quei russi che bene o male, nonostante l'occasionale problema, riescono a fare arrivare quello che serve al fronte, e gli ucraini che hanno più problemi, e hanno anche meno da spostare, però questo va anche detto. Dal punto di vista politico, vediamo come sta andando questa storia, cioè l'Unione Europea che formalmente agisce come un solo uomo, ma che in realtà è abbastanza spaccata, tra i Baltici più Polonia e anche Slovacchia, per motivi che gli sfuggono, l'area balcanica, Romania e Bulgaria che traccheggiano, l'area mediterranea, Grecia, Italia, Spagna, Portogallo, che fanno finta di non esserci sostanzialmente, speriamo che non si accorgono, e la Germania e la Francia che cercano di salvare il salvabile, e la Germania con in più il suo problema mostruoso energetico, ovviamente che adesso non riesce a risolvere. Poi tutto il resto, c'è sicuramente un desiderio da parte russo di abbandonare lo spazio europeo, un desiderio forzato, non è un desiderio, dopo tanto tempo si sono resi conto che non ce li vogliamo, e quindi hanno fatto, non sei tu che mi lasci, ti lascio io, e hanno deciso che in fin dei conti la loro vocazione è una vocazione euro-asiatica, e quindi stanno mettendo in piedi tutta una serie di relazioni politiche, economiche, militari, con l'Iran, con l'India, con la Cina, eccetera, eccetera. stanno portando avanti, non solo loro ovviamente, la questione dei BRICS, stanno portando avanti la dedollarizzazione degli scambi commerciali mondiali, e quindi appunto al momento è una situazione straordinariamente fluida. Diciamo che il 2022 potrebbe passare alla storia come l'anno nel quale appunto è venuta a maturazione, certamente non il modo in cui ci dice la propaganda russa, ma certamente non nel modo in cui ci dice la propaganda Nato, in cui è venuta a maturazione l'idea che effettivamente la multipolarità, qualsiasi cosa intendiamo con questo termine, sia qualcosa di possibile. Cioè che non siamo, dice la Russia, dice la Cina, dice l'India, dice l'Arabia Saudita, dice l'Africa, eccetera, eccetera, non siamo obbligati a stare agli ordini degli Stati Uniti. Anzi, questo poi significherà stare agli ordini di qualcun altro, ovviamente lo vedremo. Però, diciamo, secondo me la cosa più importante di questo 2022, ti ripeto, non è tanto la questione militare, ma è la questione che appunto è venuta a maturazione questo processo. Cioè da quest'anno in poi effettivamente le cose stanno andando in una direzione diversa da come stavano andando prima, ma non per la questione militare. In fondo, se vogliamo, la questione militare è un Donbass un po' più grosso, se vogliamo, no? Da un certo punto di vista. Con più morti, con più distruzioni, per carità, sicuramente. Però secondo me la cosa importante è appunto questa idea che effettivamente, forse, con tutta la calma di questo mondo, naturalmente, forse il secolo americano è finito. Effettivamente. Oh, sta cominciando a finire. Cottolina TV, comunque vada, sarà successo. Ahahahah! Tornand. Grazie.